Sindaco Straniria, Loretta Putino torna alla festa di Sanzo Pito, un rito molto solenne e molto voluto dai cittadini di Loretta Putino. Sanzo Pito è il patrono dei Loretesi, un rito molto seguito, ormai sono più di 300 anni che Sanzo Pito è il patrono di Loretto e oltre al rito religioso ricorre il rito del bue, che non è folklore ma è una cultura dell'oretesi, una cultura dei bovini che nel cristianesimo ricorre spesso. C'è stato anche un importante convegno in questa giornata e come tutti gli anni, oltre alle celebrazioni religiose, ci sarà il bue che con la compagnia dei vetturali saranno presenti nelle vie del paese davanti alle chiese e in piazza alla fine durante la giornata di domenica e invece a seguire della messa delle 18 ci sarà la processione con il bue che farà la ginoflessione in piazza. Una festa di Sanzo Pito che ha riscoperto negli anni la cultura del bue e di questo bovino. Sono stato tra i fautori di un convegno di docenti di diverse università italiane, per orgoglio magari si credeva che la cultura dei bovini era prettamente di Loretto, invece grazie a Gianfranco Spitili, un antropologo di Teramo, che ha iniziato a studiare qui il rito di Loretto ma che coinvolgendo tutte le tradizioni che sono presenti, possiamo dire ormai in tutta Europa, sta scoprendo che è un qualcosa che va un po' più all'indietro. Quindi nella cultura, possiamo dire cristiana, stiamo imparando questi giorni, probabilmente è un rito che viene da molto più lontano. Scopo di chi si occupa del bue e Loretto è quello di approfondire questa conoscenza.